Ciao a tutti voi da Rosi, siamo ancora in vostra compagnia e siamo in compagnia ancora di autoformula concessionaria Nissan. Oggi in compagnia di Alessandro, che fra poco saluto, partiremo in modo un po' diverso, perché normalmente partiamo dalla più piccola, quindi dalla Micra, invece oggi partiremo, visto anche che ci stiamo avvicinando all'inverno, anche se le giornate sono ancora belle, con il prodotto crossover e SUV di casa Nissan che sono veramente straordinari, perché? Perché sono completamente nuovi entrambi. Intanto, ciao Alessandro. Buonasera a tutti, eccoci qua a presentare il nuovo prodotto, il nuovo Qashqai completamente rivisitato, nuova griglia all'anteriore, nuovo sistema radar per i sistemi di sicurezza attiva, infatti la macchina è sempre dotata di frenata d'emergenza, avviso di cambio di corsia involontaria e lettura della segnaletica stradale, sensori di parcheggio all'anteriore e al posteriore, materiali completamente rinnovati anche all'interno, ecco che infatti sale di qualità sia percepita a livello di tatto e materiali, sia anche acustica, infatti il nuovo Qashqai è stato rivisitato a dei vetri più spessi per un'insonorizzazione migliore e una tranquillità maggiore durante i lunghi viaggi. Comodità ancora migliorata con le nuove sedute monoform, molto più ergonomiche che seguono la forma della nostra schiena. Nuovo gruppo ottico completamente LED con il nuovo sistema di fari che possono infatti seguire la strada per una migliore visibilità in curva a copertura degli angoli che a volte rimangono coperti. Nuovo design dei cerchi, nuovi cerchi per l'NConnect da 18 pollici e per il Tecna in questa lussuosa versione da 19 pollici. Nuovo design dei cerchi e della griglia anteriore e posteriore anche per una migliore aerodinamica e quindi consumi ancora minori a velocità sostenute durante percorsi autostradali. Motorizzazioni diesel o benzina, si parte da un 1.2 benzina turbo da 115 cavalli oppure per chi volesse qualcosa di più e molto più spinto un 1.6 turbo da 163 cavalli. Il nostro record invece per i consumi rimane sempre il 1.5 DCI ormai montato su questa vettura sin dal primo modello. Un motore davvero efficiente che ci permette di realizzare consumi anche superiori ai 20 km al litro. In autostrada darà infatti il meglio di sé permettendoci di affrontare lunghi tracciati con una media di 23-24 km al litro. Per chi volesse qualcosina di più invece vi è sempre la possibilità del 1.6 diesel e turbo anche lui, 130 cavalli, ben maggiore la coppia fornitaci da questo motore. Infatti su questa motorizzazione abbiamo la possibilità di montare il cambio automatico o il sistema 4x4 intelligente. Sempre rimane la possibilità di disinserire il 4x4 così da risparmiare qualcosina durante l'utilizzo cittadino. Abbiamo qui invece una versione N-Connecta, quindi la versione appena inferiore alla Tecna presentata in precedenza, con tetto panoramico, cerchi in lega da 18 pollici, sempre gli stessi sistemi di sicurezza, l'ingresso senza chiavi, finestrini oscurati e il sistema di 4 videocamere. Quindi già la nostra N-Connecta è in realtà una versione full optional, con i nuovi sedili anch'essi nella stessa nuova forma ergonomica, monoforma. Bene Alessandro, spettacolare questo nuovo Qashqai, veramente l'invito è quello di venire a vederlo e naturalmente anche a provarlo su strada perché ne vale veramente la pena. Quindi venite a scoprire le novità insieme ad Alessandro, ma a questo punto parliamo anche di prezzo? Assolutamente sì, infatti qui troviamo un listino a partire dai 20.950 con fantastici sconti e differenti formule, quindi troveremo il finanziamento qualora vi servisse adatto a voi. Perfetto, quindi venite a chiedere informazioni anche sui finanziamenti. Ed ora a questo punto direi di proseguire con la gamma, andiamo a vedere il SUV di cui abbiamo parlato prima, quindi l'altra novità che è arrivata in questo momento da pochissimo e quindi X-Trail. Ed eccoci qua davanti al nuovissimo X-Trail, nuovissimo il frontale, il design anche per lui, ancora più arricchito ma sempre fuori strada. Ottima la motorizzazione e ottima anche la scelta, qualora si volesse, un 2000 diesel 4x4 con il nuovo sistema del cambio automatico. Nuovissimo look anche agli interni, qui infatti troviamo una versione con la pelle conciata, bellissimo il marrone all'interno e nuovo anche il design delle sedute con l'abbinamento bicromatico, col grigio scuro e il marrone. Nuova colorazione, questa qui in esposizione, il nuovo marrone scuro metallizzato, bellissimi riflessi tendenti al nero che la rendono una vettura particolarmente elegante. Nuovi anche gli accessori tecnologici all'interno dove infatti troviamo la possibilità di avere l'impianto audio della Bose con tanto di subwoofer nel bagagliaio, il tetto apribile, la nuova regolazione elettrica del sedile. Nuovo anche il design dei fari studiato apposta per garantire maggiore luminosità sulla strada. Ovviamente anche sull'X-Trail troveremo tutti i sistemi di sicurezza, tra cui il radar attivo per la frenata d'emergenza, l'avviso di cambio di corsia involontario, lettura della segnaletica stradale, ovviamente rileva il nostro stato di sonnolenza a bordo della vettura per non distrarci e addormentarci durante la guida, così come copre l'angolo cieco e quindi infatti lo specchietto, grazie alla videocamera e ai sensori dentro assai integrati, ci segnalerà quando qualcuno starà per sorpassarci. Ovviamente accessoriato con cruise control e limitatore di velocità, ingresso senza chiavi, finestrini oscurati, cerchi in lega da 19 pollici, anche al Nissan X-Trail non gli manca alcun accessorio. Completo anche dei sistemi per il parcheggio facilitato, se così vogliamo dire, con quindi le quattro videocamere e i sensori di parcheggio. Ottimo anche qualora si volesse l'aiuto alla guida e quindi il parcheggio completamente automatico. Motorizzazioni sia benzina che diesel, possibilità di scegliere un motore un po' più ridotto rispetto al 2000 e quindi il 1600 turbo diesel da 130 cavalli con una portentosa coppia, si tratta di 320 Nm, infatti corposissima e capace di spingere questa vettura anche qualora si andasse in giro a carico pieno. Scelta della motorizzazione che ci permetterebbe peraltro di risparmiare molto carburante e fare economia in famiglia. Qualora volessimo qualcosa di più, ecco che sul 2000 possiamo invece abbinare il sistema del 4x4 e il cambio automatico, ovviamente maggiorazione sarà quella del costo nel prezzo. Prezzi di partenza, parliamo di 25.650 euro per la versione base di lancio a motorizzazione benzina. Venite a scoprirlo e vederlo nel nostro autosalone. Ed ora Alessandro lasciamo appunto crossover e SUV e andiamo a parlare di un'altra grande novità perché comunque è uscita da poco, la nuova Micra. Ed eccoci qui sulla nuova piccolina dal design accattivante, sembra molto più grande di quello che è e infatti rimane di 4 metri, una dimensione contenuta per un'ottima city car, pronta anche a fare qualche gita fuori porta, infatti avrà ampio spazio anche nel bagagliaio dove i 265 litri potranno essere sfruttati fino all'ultimo centesimo. Bellissimo le nuove colorazioni dove ci lascia infatti la possibilità di personalizzazioni totali. Ecco qua che infatti vediamo una vettura con i cerchi bicolore, finestrini con le loro calotte, le modanature laterale, i baffetti all'anteriore e al posteriore in tinta nella stessa identica tonalità cromatica. Frenata d'emergenza già di serie sulla vettura base, a partire da 10.850 euro, ma non si farà mancare niente e si tratta infatti di clima, radio e limitatore di velocità, già di serie su questa versione, come appunto vi ricordo la frenata d'emergenza, di cui già vi stavo parlando, integrata nel sistema radar, eccolo qua dietro al nuovo simbolo, ecco perché risulta piatto e un attimino più all'avanguardia anche nel suo look. Bellissimi anche gli interni dove in questa splendida colorazione potremo scegliere una personalizzazione abbinata ed ecco infatti l'azzurro con il beige che rispecchia poi le tonalità richiamate all'esterno. Bellissima in questo look, è ovviamente una versione un attimino più accessoriata, dove possiamo trovare navigatore, cruise control, limitatore di velocità, il climatizzatore ovviamente automatico, bracciolo, partenza senza chiavi, così come l'ingresso a bordo della vettura sarà senza chiavi. Sistema delle quattro videocamere, quindi per un parcheggio facilitato, ecco che avremo una vista a 360 gradi attorno alla nostra vettura, sensori di parcheggio al posteriore, finestrini oscurati, non le manca assolutamente niente, possibilità di impianto audio della Bose anche sulla Micra, ovviamente sulle versioni importate all'eccesso, così come possibilità dei fari completamente a led, anch'essi su richiesta specifica del cliente. La nuova Micra è infatti una macchina costruita attorno a te, con ottime possibilità di personalizzazione per scegliere la versione che più rispecchia i tuoi gusti. Ed ecco qui la nostra scelta elettrica, la vettura che strizza un occhio all'ambiente. Abbiamo ancora due vetture, solo le ultime due, disponibili già da adesso in pronta consegna, aziendali, ad utilizzo proprio del concessionario, con soli 1000 km circa, ad un prezzo davvero di favori di solo 18.000 euro per avere una vettura completamente elettrica. Si tratta infatti di una scelta 100% elettrica. Ed eccoci qua, di fianco al nostro pick-up, utilissimo per qualsiasi lavoro e ormai al pari di qualsiasi autovettura, con i suoi accessori all'interno, è infatti una vettura completa di ogni dettaglio. Disponibile da 31.000 euro, già immatricolato, chilometro zero con un grandissimo vantaggio sul prezzo. E passiamo ora all'NV200. Qui la disponibilità sarà prevalentemente di motorizzazioni diesel 1500, ottimo il suo consumo. Il nostro mezzo da lavoro, basta la scelta e possibilità di aziendale o chilometro zero con un ottimo vantaggio sul prezzo, a partire dai 12.500 euro più IVA. E adesso proseguiamo con le proposte più vantaggiosi di tutte, parliamo infatti dei chilometro zero e delle nostre vetture aziendali. Vi possiamo proporre la Micra, nella precedente versione, a partire da 8.900 euro, con differenti versioni e colorazioni, a partire dalla versione Comfort, sino alla più accessoriata N-Tec. Motorizzazioni benzina 1200, mi raccomando, affrettatevi perché ce ne rimangono pochissime. Così come di Nissan Note, a partire da 9.900 euro per una vettura con un fantastico sfruttamento degli spazi interni. Particolarmente ampio il bagagliaio e possibilità di scorrere la seduta posteriore così da ricavarne ancora più spazio. Nissan Pulsar, invece. Una vettura per famiglia, con possibilità di motorizzazione diesel o benzina, in diversi allestimenti e colorazioni, possibilità di avere una vettura un po' più semplice con radio, climatizzatore automatico e bizona, o addirittura il navigatore, le quattro videocamere e sistemi di guida assistita attiva. Così, al pari di Qashqai e il resto della gamma Nissan. Abbiamo bellissimi Nissan Juke, con diverse colorazioni a partire da 15.900 euro. Anche su questa vettura possiamo offrirvi motorizzazioni diesel dei fantastici consumi, oppure il benzina 1.2 turbo per un'ottima spinta di ben 115 cavalli. Su Qashqai abbiamo differenti versioni, sia chilometro zero che aziendali. Con un chilometraggio molto limitato, ricordiamo che infatti tutte le nostre aziendali non superano mai i 10.000 chilometri e l'utilizzo è il nostro proprio. Su Qashqai ovviamente è offerta sia benzina che diesel per una fantastica scelta e un'ottima convenienza sul prezzo. Si tratta infatti di un costo a partire dai 18.900 euro, con la possibilità anche della trazione integrale. Nissan X-Trail full optional ed ecco qua una versione Tecna. Pelle totale, 4x4 o possibilità del cambio automatico, sapremo soddisfare qualsiasi vostra esigenza. Venite a scoprire il nostro top di gamma completo di ogni accessorio a partire da 25.900 euro. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento in compagnia della concessionaria Nissan Autoformula che trovate a San Vittorio Olona, vedete sempre il numero di telefono e l'indirizzo naturalmente in sovraimpressione. Alessandro vi ha presentato le novità, vi ha parlato di prezzi davvero straordinari e di grandi novità che vi invito a venire a provare personalmente. Alessandro, salutiamo! Grazie Rosi, è stato davvero un piacere e rinnovo ovviamente il mio invito a passare da noi in concessionaria per vedere tutte le novità ed eventualmente fare un test drive. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie mille, grazie a tutti voi. Grazie mille, grazie a tutti.